Il Signor Grey Intelligente. Un po' mi ha imbarazzata. Ha degli interessi al di fuori del lavoro. E lei? Vorrei sapere di più su di lei. Non c'è molto da sapere su di me. Insomma, mi guardi. La guardo. A cosa deve il suo successo? Esercito il controllo su tutto, signorina Steele. Sarà molto noioso. Non riesco a staccarmi da te. Non farlo. Ho avuto un inizio difficile nella vita. Dovresti starmi lontana. Non mi interessa una storia d'amore. I miei gusti sono molto singolari. Non capiresti. Illuminami allora. E güzel. No no no. No 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 no. No 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 no. I miei gusti sono style. I miei gusti sono ali no 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 no. I miei gusti sono 열i oui di meeHHare. I miei gusti sono a di più sarano, eh, bellissime musico. lowigning, oh no 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 no, no no no... Grazie a tutti